Intervento dei Vigili del Fuoco di Venaria Reale, Torino Autoscala, oggi sabato 13 ottobre intorno alle 18.30 in via Michele Berrino a Venaria. Un uomo uscito dall'appartamento, rientrato, ha trovato la casa invasa dal fumo e ha subito allartato ai Vigili del Fuoco. Fortunatamente si trattava soltanto di un pentorino dimenticato sul gas. Sul posto è intervenuta anche la Croce Verde di Torino che ha controllato l'uomo siccome aveva respirato un po' di fumo.